non correre a fare scorta di medicine è uno spreco di soldi e di risorse antibiotici e quant'altro non sono utili a combattere il virus se ti ammali avvisa il tuo medico o chiama i numeri appositi forniti dal ministero della salute non fare il dinosauro stai attento noi non ci estingueremo andrà tutto bene